Le mani dei clan sulla movida regina, carabinieri e polizie in azione all'alba, eseguiti 15 provvedimenti di fermo, l'indagine della procura antimafia disarticola e il controllo sulle discoteche. Omicidio lettieri, ritrovata una delle armi, un tubo metallico di 50 centimetri è stato ritrovato a Ciron Marina ai margini di una fineta. Potrebbe trattarsi di uno dei due oggetti utilizzati da Salvatore Fuscando per uccidere la commessa di Ciron Marina. Il caso Bergamini verso la riesumazione, il 2 maggio la riesumazione dei resti del calciatore che saranno analizzati con tecniche all'avanguardia. La sorella di Denis ha i nostri microfoni, la speranza affinché si faccia verità. Il Corap è quel convegno da 16.700 euro. L'ente che assorbe i vecchi consorzi industriali ha difficoltà a pagare il personale. Alcuni avanzano oltre un anno di stipendi, eppure alla mezzia organizza per venerdì un evento dai costi esorbitanti. Festival della letteratura e del diritto al via. Oggi a Reggio Calabria è l'anteprima della quarta edizione della prestigiosa manifestazione. Illustri giuristi da tutta Italia per un evento che si protrarrà fino a sabato pomeriggio. Buonasera dalla redazione di La Cineus 24, benvenuti all'edizione serale del nostro Tg. In apertura la crona che andiamo a Reggio Calabria dove la direzione distrettuale antimafia, la polizia e i carabinieri hanno disarticolato proprio questa mattina la rete dei rampolli dei clan che teneva in pugno i locali della Movida Regina, il servizio di Consolato Minniti. Avevano preso in mano le redini della gestione della sicurezza nei locali della Movida Regina, perché così bisognava dimostrare il predominio sul territorio. Nel contempo gestivano un fiorente mercato di stupefacenti e corse clandestine di cavalli su una delle più importanti arterie cittadine. È finita all'alba di oggi l'ascesa delle nuove leve delle cosche Condello e Stilitano grazie ad un'operazione congiunta di carabinieri e polizia che hanno eseguito un decreto di fermo messo dalla DDA di Reggio Calabria nei confronti di 15 persone. L'accusa a vario titolo è di associazione mafiosa, porto e detenzione di armi da guerra e comuni da sparo, rapina, estorsione, intestazione e fittizia di beni, maltrattamento di animali. Sono volti piuttosto noti quelli finiti in cella con l'inchiesta a Eracle. Tutto parte dal maggio 2015, quando Reggio Calabria iniziarono a verificarsi aggressioni, risse ed intimidazioni all'interno dei lidi del lungomare. A gestire la sicurezza c'erano buttafuori abusivi, appartenenti o contigue clan, nessuno poteva osare ribellarsi. Chi l'ha fatto è stato aggredito, inseguito e poi ferito a colpi d'arma da fuoco. Le indagini hanno messo in luce come un ruolo di primo piano lo avessero anche alcuni appartenenti alla comunità rom di Argillà inseriti nella cosca Rugolino, un gruppo che poteva contare su un'impressionante disponibilità di armi. Poi, come detto, le corse clandestine di cavalli di domenica mattina con un corteo di moto al seguito sulla Gallico Gambarie. Spicca fra i fermati il ruolo di Domenico Nucera, uomo appartenente ai Condello ma in stretti rapporti con Domenico Tegano, figlio del boss Pasquale. Un'alleanza sempre più solida fra due schieramenti che un tempo si facevano la guerra. L'indagine ha peraltro evidenziato come questo gruppo è un gruppo armato legato alle cosche Condello e Stilitano e ha sviluppato numerose attività, non solo quello del controllo dei locali attraverso i buttafori ma anche, come dicevo, delle istorsioni oltre che dell'organizzazione di corse di cavalli. Anche questo è un settore che è stato osservato e rilevato attraverso attività tecniche e che dimostra come non ci sono limiti al controllo dell'andrangheta sulle attività del territorio. Fra i buttafori ce ne sono di coloro che hanno anche la contestazione di partecipazione all'associazione e di quelli invece che sono restati coinvolti nel solo episodio dell'aggressione che appunto avvenne nel 2015. Diciamo che la presenza di buttafori che non sono autorizzati, che nei locali tengono il controllo delle attività economiche, certamente dimostra come anche questo è un settore sul quale l'andrangheta è presente. Un fenomeno come questo sia stato monitorato e ci possa far guardare al futuro con maggiore tranquillità credo che è una valutazione positiva che può essere espressa. Consolato Minniti per la Cineus 24 È arrivato un aggiornamento sul caso dell'omicidio Lettieri. È stato ritrovato dai carabinieri di Ciro Marina all'interno di una pineta un tubo d'acciaio di 50 cm che sarebbe stato utilizzato da Salvatore Fuscaldo, omicida reoconfesso di Antonella Lettieri, per uccidere la commessa massacrata nella sua abitazione di Via Cilea. L'oggetto sembrerebbe coincidere con le ferite inferte sul corpo della donna e verrà ora inviato ai RIS di Messina per le analisi del caso. L'arma è stata ritrovata nel luogo indicato dallo stesso Fuscaldo che venerdì dal carcere di Castrovillari, dove è detenuto da oltre un mese, ha confessato l'efferato delitto. Inquirenti ancora alla ricerca della seconda arma utilizzata, un coltello a serramanico, che Fuscaldo avrebbe prelevato dalla stessa abitazione della vittima. E adesso il caso Bergamini, che viene riaperto con convinzione dal procuratore di Castrovillari, Eugenio Facciolla, il quale ha rilasciato un'intervista molto importante a Rai Sport. Noi abbiamo sentito la sorella del calciatore del Cosenza, morto il 19 novembre del 1989. Rissumazione del cadavere con l'utilizzo delle tecniche più moderne per cercare di far luce su quello che i tempi fu archiviato come un suicidio. E la decisione presa dal procuratore capo di Castrovillari, Eugenio Facciolla, a 28 anni dalla tragica scomparsa del calciatore del Cosenza, Denis Bergamini, trovato steso sull'asfalto della statale 106 la notte del 18 novembre 1989. Due gli avvisi di garanzia notificati, uno nei confronti di Sabella Internò, ex fidanzata di Bergamini, ed uno nei confronti di Raffaele Pisano. La donna si trovava insieme al calciatore al momento dell'incidente stradale, mentre Pisano si sarebbe trovato alla guida del camion sotto il quale Denis avrebbe perso la vita. Tanti i dubiti condizionali su un decesso che presenta ancora troppi lati oscuri per poter essere archiviato, come dimostrerebbero i segni presenti sul cadavere di Bergamini al momento del decesso, così come potrebbe dimostrare la risumazione prevista per il prossimo 2 maggio. In prima linea, in tutti questi anni, la sorella di Denis, donata, che non ha mai smesso di battersi per la verità. E' una cosa a cui noi familiari speravamo a questo punto, perché di qua si riparte. Sono sempre stati testimoni che erano sul posto e che le loro dichiarazioni non sono compiti con... cioè non lo sono mai state, neanche col corpo di mio fratello, non lo sono mai state neanche il 18 di novembre. Infatti questa è la rabbia che ho. Maria Chiara Sigillò per la CNews 24 13 fucili, 8 pistole, oltre 1000 munizioni, divise in uso all'arma dei carabinieri ed altro ancora. Sono stati sequestrati nel contesto di un'operazione di servizio effettuata dai finanzieri della Compagnia di Crotone, località Scarazze, nel comune di Cutro. Le fiamme gialle hanno recuperato l'arsenale in una zona impervia, anche avvalendosi dell'utilizzo di metal detector, droni, unità cinofile e militari specializzati in operazioni antiterrorismo e pronto impiego, si tratta dei baschi verdi. Le indagini proseguono per accertare la provenienza delle armi e per risalire ai custodi della Santa Barbara. Adesso voltiamo pagina. Ricorderete il caso, la vicenda del cane Angelo, seviziato e ucciso a San Gineto. Bene, questa mattina davanti al Tribunale di Paola si è svolta una manifestazione degli animalisti. Sentite. Hanno chiesto il rito abbreviato i quattro imputati accusati di maltrattamento e uccisione di animale, rischiando quindi una pena da quattro mesi e due anni di reclusione per aver seviziato e impiccato il 24 giugno scorso Angelo, il cane bianco amato da tutti a San Gineto nel Cosentino. I quattro ventenni, dopo aver commesso quel gesto barbaro, non persero tempo a diffondere le immagini, riprese probabilmente con un telefonino, sui social network. Davanti al Tribunale di Paola, dove questa mattina il giudice monocratico ha rinviato l'udienza il 18 maggio prossimo. Gli animalisti italiani, diversi cittadini e associazioni provenienti da tutta Italia, hanno manifestato pacificamente, chiedendo giustizia per Angelo e un immediato inasprimento delle pene nei confronti di chi maltratta e uccide gli animali. Le stesse associazioni, ben 27, oltre al comune di San Gineto, hanno inoltre chiesto di costituirsi parte civile. Tra queste, anche la Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente, presieduta dall'onorevole Michela Brambilla, è rappresentata da Maria Silvia D'Alessandro. Oggi si può dire che già un piccolo successo è stato ottenuto, nel senso che l'udienza si celebrerà, nonostante insomma gli imputati abbiano richiesto il rito abbreviato di una delle campagne che porta avanti proprio la Leida, a livello nazionale in particolare l'onorevole Brambilla in Parlamento, che è finalizzata proprio a intervenire sui limiti editali della pena per l'odioso reato di maltrattamento degli animali, prevedendo appunto un aumento delle sanzioni, in particolare della reclusione. I soggetti in questione, noi sosterremo come parte civile, sono pericolosi socialmente. Rossella Galati per la Cineus 24. Quasi 17 mila euro, questo è il costo di un convegno che si terrà domani alle 11 nell'area industriale di Lamezia Terme. È promosso dal Corap, l'organismo che ha assorbito i vecchi consorsi industriali e che vede alcuni suoi dipendenti, soprattutto a Reggio Calabria, avanzare circa un anno di stipendi. Dopo la scoperta fatta dalla Cineus 24.it, cresce l'attesa per capire come nel Corap Day del 28 aprile verranno spesi tanti soldi stanziati dall'ente. In queste ore il Consorso per l'industrializzazione mette a punto gli ultimi dettagli di un'organizzazione costata 16.700 euro, andati alla ditta 55C20 di Rende, ma nessuno ha inteso replicare alla notizia lanciata dal nostro sito. Risorse pubbliche bruciate in una mattinata, probabilmente anche per un buffet al centro agroalimentare di Lamezia, per un evento che si consume in poche ore e che nell'intenzione è stato realizzato per rilanciare l'immagine di un organismo che non naviga in buone acque. Costituito nel luglio del 2016, il Corap è un ente che non ha ancora dettagliato la sua missione ereditata dai consorsi asi accorpati, non riesce a pagare con puntualità gli stipendi e nella sede di Reggio Calabria addirittura i quasi 50 dipendenti hanno spettanze retrate per 14 mensilità. Insomma, un Corap impantanato che se voleva rilanciarsi nel weekend delle primarie del PD con l'evento di Lamezia ha forse alzato l'asticella dell'attesa per risolvere il quesito dei quesiti. Come sono state spese le risorse investite? Nell'incontro concluso dal governatore Mario Oliverio sfileranno solo dirigenti regionali e funzionari dell'ente. Poi ci sarà spazio per qualche testimonia e per quelle che nell'invito che l'assessore Barbalace ha postato su Facebook vengono definite buone pratiche. Non certo come questa rigogliosa foresta che si vede da anni in una strada della zona industriale di Gioia Tau. Agostino Pantano per l'AC News 24. Per ultimo pagina andiamo a Reggio Calabria per il Festival della letteratura e del diritto che oggi ha registrato la sua anteprima all'Università di Reggio Calabria nella facoltà di giurisprudenza i servizi e le interviste di Dominella Trunfio. Parlare di giustizia attraverso una prospettiva più ampia che abbraccia la narrativa, la musica, il cinema e ogni altra espressione artistica. Al via la quarta edizione del Festival della letteratura e del diritto Città di Palmi che da 2014 si conferma un evento di rilevanza scientifica e sociale. Promosso dall'associazione La Banda degli Onesti Ollus, il festival ideato dal giudice Antonio Salvati ha previsto un'importante novità. La partecipazione della Scuola Superiore della Magistratura e del suo presidente Silvestri, presidente in merito della Corte Costituzionale che ci darà l'olore e il piacere di cominciare i lavori ratificando quello che era un obiettivo del festival dalla prima edizione, cioè raggiungere una maturità e una profondità di sapere scientifico tale da poter essere inserito anche nei programmi di formazione per i magistrati italiani, cosa che è accaduta quest'anno e che mi rende particolarmente orgoglioso e felice. Una tre giorni intensa in collaborazione con l'Università Mediterranea che ruota attorno ai temi di confine, identità e diversità con il coinvolgimento di studenti universitari e non solo. Con l'inizio del festival si segna anche la chiusura del corso Diritto e Letteratura che quest'anno il CRED, il Centro di Ricerca per l'Estetica e il Diritto, ha organizzato. Abbiamo avuto la partecipazione tanto degli studenti universitari quanto di alcune classi, dei licei classici di Reggio Calabria, Tommaso Campanella e Pizzi di Palmi. Per il secondo anno consecutivo il Festival della Letteratura e del Diritto è preceduto da un'anteprima, un'occasione per presentare gli esiti di una colla lanciata dal CRED dell'Università Mediterranea. Dopo le performance musicali e artistiche, l'avvio dei lavori riassunti in pillole ai nostri microfoni. Il mio intervento di oggi verte sul romanzo dello scrittore israeliano Abraham Joshua, a Viaggio alla fine del millennio, che affronta il tema dell'incontro col diverso, della conoscenza di sé, appunto attraverso l'incontro col diverso. Tratterò in particolare di un autore, Emmanuel Carrère, che ha descritto in un suo romanzo un episodio drammaticamente accaduto in Francia, a Francia inizi agli anni 90. Presenterò in particolare un'opera lirica, il Peter Grimes di Benjamin Brite, che parla di un rapporto, cioè quello tra la società e l'individuo, l'individuo che viene talvolta, come in questo caso tragicamente, schiacciato dalla società. Si può confinare l'identità? Con questa domanda si apre l'interrogazione su Kaspar Hauser, che è un famosissimo libro scritto da Anselm von Feuerbach, un giurista dell'Ottocento. Il mio intervento guarderà soprattutto a due principi. Quello di riconoscere l'errore umano del confinamento. Il secondo principio, invece, guarderà più il diritto penale. Dominella Truffio per la Cinews24. Resta acceso il dibattito politico a Cosenza sulla metrotranvia e stamani il consigliere regionale e comunale Carlo Guccione a parlare in conferenza stampa. La metrotranvia Cosenza rende la creazione anche fisica di un'unica grande aree urbana sposta agli equilibri politici verso il capologo Bruzio. Con i nuovi assi di collegamento tra la Valle del Savuto, l'Università della Calabria e verso est la nuova grande città della Sibaritide, per la quale si andrà a votare ad ottobre, avremo un polo urbano di notevoli dimensioni tale da drenare risorse rispetto alle altre province della Calabria dall'intero mezzogiorno del paese. Secondo Carlo Guccione potrebbe essere questa una delle chiavi di lettura del mancato accordo tra Oliverio ed Occhiuto sulla realizzazione della infrastruttura. Il consigliere regionale lo ha ribadito nel corso di una conferenza stampa alla quale ha partecipato anche il capogruppo del PD in Consiglio Comunale, Damiano Covelli. Soprattutto Guccione ha sottolineato che la metrotranvia appare anche nel piano strutturale appena deliberato dall'aggiunto Occhiuto. Nel nuovo PSC è prevista la metrotranvia, quindi c'è la volontà del Comune di Cosenza di farla la metrotranvia. Prendiamo atto con soddisfazione. Io non vorrei che i caratteri dei due Mario, Mario Oliverio e Mario Covelli, potesse essere di impedimento a un'opera che per come sta nascendo dovrà collegare l'unica al comunista avuto erogliano. A poche ore ormai dalla celebrazione delle primarie, Guccione parla anche dell'organizzazione dei seggi. C'è qualcuno che vuole fare le primarie in clandestinità. È mai possibile che a 48 ore dalle primarie i cittadini di Cosenza della città e della provincia non sanno dove andare a votare? Salvatore Bruno per la Cineuso 24 Restiamo a Cosenza dove questa mattina si è insediato il nuovo questore, Giancarlo Conticchi. Avvicendamento alla guida della questura di Cosenza dove a Luigi Liguori è subentrato Giancarlo Conticchio, 55 anni, originario di Gravina di Puglia. Il nuovo questore, già dirigente del compartimento polizia ferroviaria per la Puglia, la Basilicata e il Molise, ha la sua terza esperienza in Calabria dove, tra l'altro, ha diventato la scuola allievi agenti di Vibo Valencia. Vengo in Calabria e sono onorato perché nelle altre due occasioni mi sono trovato bene e penso di aver servito bene sia la scuola allievi agenti di Vibo Valencia che il compartimento della polizia ferroviaria di Reggio Calabria. I obiettivi sono quelli di aumentare di più la prevenzione e di garantire la sicurezza e di aumentare la percezione della sicurezza. Il paradosso è che i dati dei dati sono in calo, però la gente percepisce minore sicurezza. È proprio su questo aspetto che punterò la mia attenzione. Il cittadino ha bisogno di essere tranquillizzato. La nostra mission è quella di garantire la sicurezza aumentandone la percezione. Quando il cittadino viene nei nostri uffici per denunciare il furto anche della semplice ruota della bicicletta è una sconfitta. Vuol dire che non ha funzionato la prevenzione. Io punterò molto sulla prevenzione congiuntamente alla repressione. Salvatore Bruno per la Cineuso 24. E adesso andiamo a Vibo Valencia dove è scomparsa una collezione di reperti antichi. Ma il giallo potrebbe presto trovare una soluzione. L'animatore culturale per una volta indagatore, il sindaco magistrato in questo caso conciliatore e la direttrice del museo appena insediata ma subito disponibile. Il presunto mistero della collezione di reperti archeologici donati dal professor Leone alla città di Vibo Valencia sembra avere le ore contate. Raniero Pacetti, il presidente dell'associazione Civitas che ha sollevato il caso, il primo cittadino in Leocosta e la responsabile del museo Capialbia, Adele Bonofiglio, si sono incontrati iniziando una ricerca che ha dato i primi frutti. I manufatti che l'archeologo Dario Leone nel 1984 ha lasciato alla città con una donazione fatta dall'allora ispettore onorario Vincenzo Nusdeo sarebbero distribuiti tra Lamezza e Reggio Calabria. Non una notizia ufficiale questa perché i protagonisti della ricerca per ora, come si dice in questi casi, non brancolano nel buio ma sono abbottonati. E rimane quindi da capire, ma nei prossimi giorni se ne saprà certamente di più, se il lascito dell'archeologo Lametino è oggi in esposizione oppure giace in qualche deposito. Ovunque c'è, ma non nella città di Vibbo dove Pacetti insiste perché i reperti ritornino. Non una distrazione questa della soprintendenza, ma una scelta purtroppo normalissima quella di far girare le bellezze o al più nasconderle per mancanza di spazi. L'investigazione, pardon l'operazione amministrativa per far tornare a casa i monili, continua, ma non ha un esito scontato. Saranno le carte notarie a stabilire la reale volontà dello studioso, anche se a Vibbo giurano che questa battaglia culturale si basa su documenti inoppugnabili. Agostino Pantano per la CNews24. È stata presentata a Rende l'edizione 2017 del premio letterario Amaro Silano. I dettagli nel servizio. All'insegna della valorizzazione della cultura nella nostra terra si consacra l'unione di intenti tra l'azienda Boscoli Cuore SRL e l'associazione no profit premio letterario Amaro Silano. Presentata nella sala conferenza di Cardona la quarta edizione del premio letterario, che vede opere che hanno come prerequisito uno stretto legame con la Calabria, concorrere nelle sezioni narrativa, saggistica e poesia dialettale calabrese. Premio che è nato dalla passione per la nostra terra e abbiamo individuato la casa che produce l'Amaro Silano come il riferimento culturale del nostro discorso. Come azienda ci teniamo molto al nostro territorio, ci piace portare il nostro territorio anche in altre parti, in Italia, all'estero, quindi il nostro nome rimane comunque legato al territorio, ma per vantare le nostre eccellenze. Il 3 maggio verranno le premiazioni, per le prossime edizioni non mancheranno novità, visti gli sforzi per allargare sempre più gli orizzonti verso il panorama letterario nazionale. Quest'anno abbiamo deciso di allargare le regioni del meridione, dalla Campania in giù. Novità ci saranno nella prossima edizione se ci sarà consentito di andare avanti. La prima è di estendere a tutta Italia per la parte saggistica e narrativa, per la poesia dialettale resteremo in Calabria. Aggiungeremo a un'altra sezione la poesia in lingua, la poesia in italiano. Da Rende per Acinius24 Lo sport, il calcio, ci occupiamo di Lega Pro, andiamo a conoscere con questo servizio le avversarie delle quattro formazioni calabresi. Pronti a partire gli ultimi 180 minuti di gioco, che segneranno in parte il destino delle quattro calabresi. Il Cosenza si prepara al gran finale della stagione regolare, prima di tornare in campo per gli spareggi promozione. I Silani andranno a far visita al Messina, formazione che ormai viaggia in piena zona salvezza. Messina, tornata alla vittoria dopo tre risultati non proprio splendidi, è determinato a continuare, in vista soprattutto della penalizzazione in arrivo, che non andrebbe ad intaccare comunque la questione salvezza, staccando ulteriormente la regina attualmente a meno uno. A Maranto che invece saranno impegnati sul campo dell'Andria con lo stesso obiettivo. La regina potrebbe infatti mettere il timbro sulla stagione 2016-2017. I pugliesi, distanti solo una lunghezza dalla zona promozione, vorranno quindi rimettersi in carreggiata e giocarsela fino alla fine. Chi invece lotta per rimanere ancora in corsa a play-out sono Catanzaro e Vibonese. I giallorossi, dopo la debacca del Luigi Razza, proveranno a mettere una toppa su un campionato iniziato male. Il Catanzaro, unica formazione calabrese a giocare in casa, ospiterà la casertana, collocata nella parte opposta della classifica. I rosso-blu invece se la giocheranno sul campo del Taranto, attualmente ultimo e quindi a retrocesso. Maria Chiara Sigillò per la CNews 24. Questo era l'ultimo servizio, noi ci fermiamo qui, un buon proseguimento di serata e arrivederci. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie. Grazie a tutti.